Benvenuti amici, io sono Pimpost e oggi torniamo su Zuba E' uscito un nuovo aggiornamento che aggiorna un po' la posta in arrivo Quindi la nostra posta adesso è così Grazie per la tua pazienza, grazie, prego anzi Ok, l'inbox generale, l'inbox personale Abbiamo inoltre la community dove potremo entrare nella community di Zuba E quindi completare diversi obiettivi per avere altre ricompenze Dopodiché la scheda video ci permette di vedere i vari video dedicati a Zuba Tra l'altro ci sono alcuni video di alcuni youtuber Va bene, cominciamo, forza cominciamo come se non ci fossero domani Perché oggi la vorrei vincere, almeno uno io la vorrei vincere oggi 30 punti a me per aprirmi una cassa Una lancia nitro, perfetto E' 20, abbiamo da riscuotere, riscuotiamo tutto qua, forza che dobbiamo ingranare Apriamoci anche questo ovviamente, apri una cassa gratis e dobbiamo riempire tutta la barra Perfetto, Olly e 9 monete, un'altra cassa gratis Bruce e 9 monete, va bene Allo store, qua dobbiamo ritirare cose, sì, forza Nuova skin per... perché, perché, perché? No, vabbè, guarda che figo E cassa d'oro e abbiamo... apri una cassa d'oro, ok E abbiamo Buck, perfetto Allora, direi di andarmi a selezionare chi Riproviamo con X perché Olly è un po' troppo cicciatello e un po' troppo lento No, guardate Buck con la nuova skin che figo Ma tra l'altro credo di non averlo provato ancora Quindi aumentiamogli un po' il livello Magari proviamo Buck, forza Combattente da vicino, ricordiamoci Vai Buck che siamo tutti contelli, livello 9 Biglietto dell'evento Praticamente essendo in periodo Halloween potremo collezionare biglietti di Halloween Adesso diamo un'occhiata Intanto riscuotiamo qua 5 token, Bruce, oggetto di bronzo Che mi date? Che mi date? Lancia nitro, altri biglietti E... altri diamanti Oggetto di bronzo, arco nitro, token Che mi date? Altri 5 Buck Va bene così, va bene così Allora, dicevo Abbiamo come evento I token Halloween Usa questi biglietti per acquistare premi in negozio Attento che scadono Quindi dobbiamo spenderli prima che finisce effettivamente l'evento Che durerà 30 giorni Quindi 29 giorni e 15 ore Vediamo che possiamo comprarci Va Allora, queste sono le offerte speciali Eccole qua Milo pigiama No, ma guardate quanto è figo Milo pigiama Ma lo voglio Eh, ovviamente potremo comprarci delle casse varie ed eventuali E... e poi... e poi... e poi... niente No, ma è troppo bello Peccato non averli Sì, 7500 Timenti lo avrei preso al volo Va bene Che facciamo? Andiamo al gioco 3 ore che qua apriamo cose Mettiamo gli oggetti a buck Forza Equipaggio Il biscottino non può mai mancare Questo ci faceva Vai in acqua per metterti al sicuro E non l'abbiamo provato Proviamo Forza equipaggiamolo Possiamo livellarlo pure Quindi livelliamolo E poi... e poi... e poi... che cosa utilizziamo? I sandali Che ci fa camminare nell'acqua Un costumino acquatico A posto buck Mi raccomando impegnati che siamo tutti con te Allora, solitaria light Vediamo un po' Quindi dobbiamo attaccare da vicino con buck Vediamo quanto Mamma mia Come sempre siete tutti lenti In questo gioco È più lento del panda Vieni qua Io attacco da lontano Ma vabbè attaccato da vicino Ovviamente io non posso attaccare Aspetta Mi sento in difficoltà Adesso iniziamo ora Affiniamo Perché sto uccidendo quell'altro Mi prendo quella Player, player Vieni qua, vieni qua Che ti schiaccio come un moccino Vieni qua Mi prendo questa Mi prendo questa Ma posso... che fa? Mi faccio... Se faccio questo Con la guardia E cre... carico Però gli faccio pochissimo La guardia almeno Ai personaggi ancora meno Mi sa Crepa, guardia Avanti, su Dobbio... Dobbio prenderci una lancia Aspetta che mi piglio la lancia Crepa Non rompere le scatole Crepa E crepe Non scappare Non scappare Coniglio Vieni qua Intanto mi prendo una lancia Anche se fa schifo Mamma la prendo Meglio di niente Ma raggio d'azione Mamma mia Che limitato Vabbè giustamente Quello c'è un arcotipo Arco argentato Non ci arriverò mai qua Piano Calma e circospezione Perché Mi sento... Ma proprio mi va Mamma mia Mamma mia È arrivato il fuocarello Tesserea moscella Che fai qua? Aspetta Ecco Brucia Brucia Tra le fiamme dell'inferno Sono in deficit Un po' di oggetti Io Tra cui anche armi Volendo Crego L'arco d'oro L'arco d'oro L'arco d'oro Ma io sono lentissimo Non lo raggiungerò mai E tre ore Che cammino Con una bomba armata Amma mia S'arriva S'arriva di rinforzi Qua Aiuto 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 Si stanno ammazzando Tra di loro Io passeggio Allegramente E crego Non ci arrivano mai Via Ok Perfetto E queste mie La finiamo Per favore E via La finiamo Guardia leggendaria Datemi qualcosa di bello Prima ci deve arrivare Prima ci deve arrivare Prima ci deve arrivare Ammazzatele In acqua dovrei essere al sicuro E adesso io faccio tutta la fatica Dammi qua Dammi qua Guardia leggendaria Crepa Adesso faccio tutta la fatica E se la frega No Questa è mia Mi curo Ma me la prendo Ma me la prendo Non mi sparare Mentre che sto fregando le cose Grande così Però emergiamo da qua Che sto bruciando Anche se sono in acqua Ma brucio Via Vai Che ce la possiamo fare Ok Guardia Mi lasci in pace Per favore Una granata grossa Come una capanna Crepalo Crepalo Esplodi però Sei una bomba leggendaria Però non lo scoppi Aspetta che qua mi senti in difficoltà Tre Grande così Se qua Ti carico Ovviamente carico Dalla parte sbagliata Non è che potevo caricare Non è che potevo pensare Di caricare Dalla parte giusta Se ti trovo Ti distruggo E ti distruggo No no ferma Ferma che c'è la cosa Leggenda Prendo Ma questo non lo posso prendere Il fucile Ok vai Mi lasci in pace Che rottura Ma crepa Alleluia Alleluia Abbiamo vinto Con Buck abbiamo vinto È bello Bello tosto È Buck Devo dire Bello resistente Mi piace Ovviamente Quindi vediamo di potenziarcelo Andiamo Dove Niente al menu Vediamo se possiamo potenziare Buck Mi scuotiamo qua Ricompensa Che mi date È un bel fucilozzo Bellissimo Qua Monete Li dividiamo qua È al 200 Perfetto Io riproverò Con Buck Ah mi mancano Direttamente le monete Le monete le compriamo Errore di connessione Ma come errore di connessione C'è una connessione Mi fate potenziare Il mio Buck Per favore Monete mancano Ante una Forza Tagli su Che ci portiamo Buck Non so quanto A livello 11 Adesso faremo sederini Token insufficienti Adesso si Che faremo sederini Allora Quella cosa dell'acqua Non è male Non è per niente male Questa qua Mettiamoci al sicuro In acqua Perché non ci possono colpire Visto che Nuotiamo sott'acqua Non male Il biscottino Altrettanto Con il biscottino Non riesco a togliere Perché è troppo utile Gli a tre Io direi di andarci così A meno che anche questa Sarebbe figlia Come cosa Aumenta il raggio d'attacco E velocità Della Dell'arco Per no L'arco non ce ne frega niente Abbiamo una Aspetta L'arco invece si La lancia Io mettere la lancia Allora Lancia nitro Aumenta il raggio d'attacco E velocità della lancia Visto che comunque Pacca Attacca di lancia E mettiamo la lancia Equipaggela qua Togliamo i sandali No Abbiamo Perfetto Abbiamo sbloccato Un altro slot Allora Chi se ne fai Forza Acquista monete Acquistiamo le monete Sono sempre senza monete Sono sempre senza soldi In tutti i giochi Ma perché Non lo so Sono sempre senza soldi Anche nella vita Direi Aggiungerei pure Ok A giorno Basta così Perfetto Cioè possiamo andare Andiamo a sbloccare questo Inizio a sbloccare A posto Ritirei compense Abbiamo qualcosa Ieri Si riscuoti qua Perfetto Andiamo Andiamo alla battaglia Forza Buck Impegnati Buck Mi sta piacendo un casino E ci ho fatto solo una partita Figuratevi Allora Attraverso le finale Se il tuo personaggio Scivola sul ghiaccio Andiamo all'attacco Non affondare Ma è troppo figo Quando affonda E poi Allora Moscello Io sono senza armi Però ne sto recuperando una E adesso te la lancio in testa E poi vediamo che fai E crepa Che raggio Crepa Sbend E No Non fare sta fatica Non fare il passion Aspetta che ti carico Stai crepando Si E crepa Finiscila va Adesso ti crepa E Via Crepa Ciao Arrivederci E grazie Alla prossima A posto Una lancia Questa la prendo io Quella la prendo io A posto Andiamo avanti Forza L'arco Io lo posso prendere l'arco No Ecco Allora quindi l'arco Non c'è fega niente Il fucile si però Quindi armiamoci di fucile E crepa E scappi E scappi Avete paura di me E prendi qua La prendi qua Perfetto 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 Lui si nasconde Da queste parti Ovviamente Perché non è che è scemo Andiamo alla ricerca Di moscerini Da uccidere Vediamo Vediamo Qua eventualmente Posso piazzare una trappola Però Andiamo avanti Tanto c'è il fuocarello Ci pensa lui E da queste parti Non c'è nessuno No Siete scappati tutti A posto Datemi la vittoria E andatevene tutti Allora A sto punto Una torta Eeeh Il compleanno Di qualcuno Che ha fatto un anno Guarda qua Che bello Guarda che figa sta torta Allora Dove sono quei moscerini Guarda che gioco da solo Già che bacca è lento Poi che devo Attenzione al fuocarello Lì Perché mi sto andando In una zona brutta Scendiamo 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 Ok Sto fatto che camminiamo Sull'acqua E' fighissima Come cosa T'ho visto Sai Non fare il ramoscello Che ti ho visto Abbi il coraggio Di uscire Allo scoperto Aspetta Alla sopra C'è un altro Dove è andato Eccolo qua Un altro bac Aspetta che adesso Ti carico Bac E via Più veloce Della luce E crepa Andiamo Oggi siamo Siamo in forma Oggi Ne sto massacrando Uno dietro l'altro No Che c'entra là Nasconditi 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 Aspetta che c'è il fuocarello E via E via Più veloci Della luce Più veloci Della luce Grande Così Posso prenderci lo scudo Aspetta che mi cura E mi prendo lo scudo Non posso prendere lo scudo Ah C'è stia Stai E crepa A posto Mettendoci lo scudo Non rompere Non rompere Che ti distruggo Non rompere Che ti distruggo Te stai ramoscello Crepa Tutto contro di te Tutto ti butto Tutto Grande così No Bac Magari Magari me lo porta A 12 Eventi E ok Andiamo al menu Ritira Ok Altri 10 biglietti Di Halloween Va bene Va bene così Il token Non me l'avete dato No? Taccagni Mettiamoci in coda Questa Così ce la apriamo Al prossimo video E direi che per oggi Abbiamo fatto Due vittorie Due vittorie Su due partite Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate sempre like Per supportare la serie Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la campanella E perciò è tutto Al prossimo video Oggi siamo alla domenica horror Con un nuovo gioco Ovvero Teddy Freddy Perché ho fatto cadere Ma quanto sei figo Ma ti vorrei vedere Però Tu mi picchi E non va bene E io me ne vado